Situazione meteo di oggi per la provincia di Palermo. Nuvolosità innocua. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da nord-ovest con intensità di 6 km orari. Temperature 19 gradi la minima, 23 la massima. Previsione per la giornata di domani. Brevi rovesci e schierite. Vento da est-nord-est con intensità di 3 km orari. Temperature 17 gradi la minima, 21 gradi la massima.